Buongiorno, sua nipote ha causato un incidente, sono l'avvocato, servono dei soldi per la cauzione. La telefonata trappola diretta alle persone più fragili, gli anziani che spaventati consegnavano al sedicente legale giunto in abitazione tutti gli averi, dai monili, orologi di valore, denaro. 14 colpi accertati tra le province di Treviso, Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Il bottino recuperato dai carabinieri ammonta 200 mila euro. L'operazione dei carabinieri di Castelfranco è scattata dopo l'arresto di Mirko Levac, 36 anni di Vedelago, arrestato in flagrante mentre stava tentando l'ennesimo colpa ai danni di un 84enne di Conegliano. Le indagini hanno consentito di identificare i componenti di un gruppo che risultano tutti indagati. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Castelfranco Veneto con il coordinamento della Procura della Repubblica di Padova e le attività svolte, in particolare le perquisizioni effettuate presso le dimore degli indagati, hanno consentito di rinvenire e sequestrare una gran quantità di refurtiva, appunto gioielli, orologi di valore, monili, denaro contante, oggetti che oltre a un valore intrinseco avevano per le vittime, spesso appunto persone anziane, sicuramente anche un valore affettivo. Una persona è stata arrestata, altre quattro sono indagate. Una banda specializzati in questi reati che iniziavano con una truffa e poi si trasformavano in furti o rapine. Rolex, anelli, ciondoli, monete e denaro in contante, circa 6 mila euro la somma recuperata. Sequestrati anche i cellulari utilizzati dai malviventi per chiamare le loro vittime. Anziani che venivano presi di mira e controllati prima del colpo, al polso di uno degli indagati è stato trovato anche un rolloxurbato ad una vittima. Non solo, i militari dell'arma hanno anche recuperato delle ricevute di alcuni banchi dei pegni a Venezia e Roma. Sono state sequestrate queste ricevute che hanno consentito di operare presso queste agenzie, ovviamente non coinvolte nell'attività di indagine e quindi di bloccare questi beni prima che venissero ulteriormente alienati. L'appello dei carabinieri a chiunque riconoscesse i propri gioielli. Per noi è importantissimo adesso risalire alle vittime, ai denuncianti e quindi chiunque riconoscesse questi monili potrà rivolgersi ai carabinieri di Treviso e quindi tornare in possesso, ripeto, di questi oggetti. Un reato odioso che non solo mette a rischio gli anziani per lo spavento della telefonata che ricevono, ma anche per il furto che subiscono.